12, 13, 14 e 15 agosto, quattro date importanti di questa torrida estate tarantina, cave di Fantiano Grottaglie, l'appuntamento con la quarta edizione del Cinzella Festival. E allora siamo con Mimmo Battista dell'Associazione Culturale Afosei, una serie di puntate che Polifemo Eventi ha voluto dedicare a questo importante evento. Scusate il bisticcio di parole. E allora, proprio rapidamente, facendo leva sulle tue capacità di sintesi e sulla forza del messaggio, gli artisti, perché partecipare, perché assistere? Io dico partecipare, perché assistere sarebbe solo un qualcosa così di passivo e non di attivo, di vissuto. Dicevo, perché prendere parte al Cinzella Festival? Bene, inserito ho visto i tempi perché è un evento che si svolgerà in sicurezza, ma soprattutto per la qualità artistica di quello che proponiamo e perché chi è venuto già alle cave di Fantiano ha potuto verificare che si tratta di un posto di livello internazionale. E questo è molto bello perché nella nostra provincia, alle cave di Fantiano, approfitto per ringraziare il comune di Grottaglie che ci sostiene ormai da anni e che ci crede, è un'amministrazione giovane che giustamente sta puntando sulla valorizzazione del territorio, non solo con il Cinzella ma anche con altre iniziative, venire al Cinzella significa partecipare ad un evento che lascia il segno. Ci sono davvero quest'anno, il concerto di Diodato rappresenta una chicca, perché al contrario di quello che si possa pensare, perché Antonio è ovviamente un nostro amico, fa parte della direzione artistica di un omaggio Taranto, che è quell'evento poi che secondo noi ha veramente segnato e cambiato la narrazione anche culturale e musicale di questa città, rappresenta il concerto dell'estate perché comunque Antonio ha vinto il festival di Sanremo e sta facendo sold out, insomma dappertutto, proprio domani sarà ed è un grande onore per lui, o dopo aver cantato e dovrebbe essersi esibito all'Arena di Verona, sarà il teatro antico di Taormina dove si esibiscono veramente i più grandi, quindi portarlo alle cave di Fantiano, al di là dell'amicizia, non è stato assolutamente facile ed è venuto proprio perché lui in quest'anno, quest'estate, nei concerti di un'altra estate come ama definirli, ha voluto esibirsi nei posti più particolari del meridione e quindi il fatto che abbia scelto le cave di Fantiano è davvero per noi un motivo di orgoglio. Io dico un evento che è importante perché serve a uno sprovincializzare Taranto e poi proprio per riesce a far comprendere che Taranto deve entrare a una sua collocazione morale e materiale di diritto nel circuito internazionale della cultura. Un'idea precisa di quello che vogliamo per questo territorio, che non è un turismo massificante o massificato, vogliamo un turismo oncoming di qualità, un turismo che faccia veramente venire, capire, percepire le potenzialità di Taranto. Noi abbiamo visto la settimana scorsa che tipo di risalto ha avuto la visita di una influencer come Chiara Ferragni a livello mondiale ed è importante trovare dei testimonial che vengano veramente a valorizzare, ad esempio, gli ori di Taranto e quelli del Museo Martà in cui noi crediamo. Quindi noi veramente puntiamo su quel tipo di turismo perché lo riteniamo importante proprio dal punto di vista non solo economico ma proprio qualitativo della domanda offerta che il turista riesce a trovare qui a Taranto, lontani da quegli episodi un po' che alla lunga secondo noi è un turismo perdente che magari inizialmente può essere positivo, può dare quell'adito positivo per il territorio ma che poi alla lunga allontana le famiglie, allontanano quegli stakeholder che possono invece portare un quid in più per il nostro territorio. Grazie a tutti!